Salve a tutti blazers e bentornati in Bloodborne Siamo alla puntata numero 5 Siamo sempre qui nelle fogne Pronti ad esplorare una nuova area Per cui abbiamo ripulito tutta questa zona Che era piena zeppa di finti cadaveri Perché in realtà questi esseri erano Del tutto vivi e vegeti E siamo pronti invece per proseguire C'è un'imboscata Più o meno Sarà il caso di attaccarvi Dalla distanza Mentre vomitate lo schifo Mamma mia Ok No l'ho mancato assolutamente Ok Vieni E' vivo ancora Sembravi morto Ti è rimasto proprio uno sputo di vita E tu? Perché non ti ho fatto lo stesso danno? Non capisco questa Questa meccanica Delle volte il danno non va totalmente Cioè il colpo non va totalmente a segno Comunque perquisisci il cadavere Fiala di sangue Ok Già non mi ricordavo più Il moveset del martello Me lo ero un po' dimenticato Ok Così comunque Conviene utilizzare l'R2 Contro questi nemici Perché sono Oh mio dio E' solo uno stupido corvo E' solo E' solo Sì vabbè E' uno stupido corvo Che però fa anche Parecchio male Stavo Cambiando il volume Delle cuffie E mi hanno fatto un agguato Sta tenendo i buoni un attimo Guardavo Ok E muori Immediatamente Ok Dicevo che per questi nemici Conveniva Utilizzare l'attacco R2 Perché attira una martellata A terra Visto che loro erano praticamente sdraiati Direi che era Più che conveniente Mure invisibili Ma assolutamente no Anche perché non sembrano esserci Tracce di passaggi Non dovrebbero esserci Mure invisibili qui Dunque scendiamo Scendiamo ulteriormente Ci sono altri di quei nemici Abbastanza raccapriccianti Qua non c'è niente Ok Sono un po' ossessionato da queste Mure invisibili Non ne ho ancora trovata Mezza Ma prima o poi Ne devo trovare almeno una Ecco perché le ho tolto solo 54 Ti ho preso di striscio Forse Mi devo avvicinare di più No Non mi pare Che sia questo il senso È come se si parasse Forse In qualche modo O forse se lo prendiamo frontalmente Li togliamo meno Se invece io provassi a Andare alle loro spalle Non riesco Fatemi passare Proviamo così Sì infatti Da questa parte Sono riuscito A fargli un danno maggiore Si è spostato Ok Ok Va bene Questa parte C'è un altro cadavere Finto cadavere Sgamatissimo direi Ok Ok Vedo anche un oggetto Però eh Vedo anche un bello oggetto Quindi potresti morire Gentilmente Perfetto Frammento di pietra Del sangue Non sembrano esserci muri Invisibili Neanche qui Ok Proseguiamo dunque Proseguiamo In questo Lungo canale Alla fine Basta Stupidi corvi Mi fate prendere Un colpo Ogni volta E poi in realtà Non siete nulla di che Per cui Servite solo Come Jump scare Come scarecrow Diciamo così C'è un essere gigantesco In fondo a quel tunnel No Volevo leggere Vedere lo spettro Come sei morto Per piacere Voglio vedere lo Spettro Voglio vedere lo spettro Allora Cambiazione Vedi spettro Dov'è? Non c'è nessuno spettro Perfetto Vedi note Attacco cruento E' efficace Ok Non so se mi conviene Andare Qua sopra Oh Ma si dai Proviamoci Proviamo ad attaccarlo Mentre ci carica Suppongo Ci caricherai Vero? Vero che ci caricherai Beh diciamo che sei Molto lento Sorta di No Oh mio dio Mi carica Mi carica Per l'appunto Eh L'ho mancato Clamorosamente Ok 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 Non sembri avere Troppa vita Quindi potrebbe essere Anche fattibile Una bella martellata In faccia Ok Ok Accuccia Accuccia C'ho l'audio Ancora Altissimo Cosa mi droppi Fiala di sangue Niente di Particolare Mi chiedo se La via giusta Sia questa O se Prima devo salire Secondo me Di qua Si continua Vedo Due Cadavri Ruggiare di sangue Freddo E Stemma Da cacciatore Con sega Ma che roba è Non è il primo Stemma Che trovo Ma non ho ancora Capito A che diamine Serve Soprattutto Ah eccolo qui Stemma di un cacciatore Punito Dall'officina Stemma creato Dall'officina Molto tempo fa Tessa l'abilità Nel ruolo Di cacciatore Di belve L'officina Non c'è più Nessuno riconosce Più questo inutile Stemma Con l'eccezione Dei messaggeri Nella vasca Che ne comprendono Il profondo significato Certe cose Possono essere affidate Soltanto un cacciatore In possesso Di questo stemma O almeno Così essi credono E glielo faremo credere Per cui dobbiamo Tornare poi Nel sogno Del cacciatore E dare Questi stemmi Suppongo ai piccolini Ai Messaggeri Qua è una caduta No è una scala Quindi possiamo Scendere tranquillamente Qui si sale Qua non c'è nulla Attacco furtivo E' efficace Ok Sì mi sa che Questa è la strada giusta Effettivamente Da questa parte Ci si butta di sotto O è una caduta mortale Vedo un fondo Ma potrebbe essere Una caduta mortale Preferisco non Non rischiare Per il momento Ma secondo me Per prima cosa Dovrei salire Quella scala Che ci siamo lasciati Indietro Oppure no Mamma mia E' difficile E' difficile Dai si saliamo La scala Perché quella sorta Di cinghiale Potrebbe anche Essere lì Come guardia Ha un percorso Secondario Che magari E' più conveniente Perché ovviamente Offre all'inizio Un rischio Che va superato E poi una volta Che superi Quelle Quelle Mini boss Diciamo Tra virgolette Hai magari un premio Hai un vantaggio Però potrebbe anche Essere La strada giusta Quella Non lo possiamo sapere Intanto siamo Usciti dalle fogne A quanto pare Qua non c'è nulla Qui c'è Un ascensore Che secondo me Ci ricollega All'ascensore Che abbiamo visto Due puntate fa Sarei pronto A scommetterlo Esattamente Vedete Siamo tornati Qui Dove c'erano I due simpaticoni Due Tizi molto grossi Quindi abbiamo sbloccato Uno shortcut In questo modo Praticamente Sì perché da lì Possiamo Da qui possiamo Raggiungere Sì possiamo Raggiungere La lanterna E quindi riposarci Lì c'è La gente armata C'è tanta gente Ok Per cui potrebbe essere Saggio Potrebbe essere Saggio Andarci a riposare Oppure Scendere di nuovo giù E vedere cosa c'è Dall'altra parte Ma dai Andiamo a riposarci E Magari Livelliamo anche Ci sono Nuovi Messaggeri Nella vasca Significa che Hanno aggiunto Sì hanno aggiunto Degli oggetti Coltello da lancio E Un altro Stemma Chiave Cancello Piazza Rotonda Se questo lo dovremo Comprare prima o poi E ci sono tutte le armi Iniziali ragazzi Beh Bene Molto bene Prima o poi Le comprerò tutte Le voglio avere tutte C'è la pistola Da cacciatore Potrei anche Prenderla Per Provarla E poi Non c'è altro Ok E possiamo Livellare Bentornato Cacciatore Ok Basteranno Sì Direi di sì Che cosa Possiamo alzare Potrei alzare La resistenza Perché c'è anche La resistenza Al veleno E visto che siamo In un'area Che sembra Ricca di veleno Potremmo Approfittarne Perché Arcano Tinta del sangue Per il danno Del fucile Cioè Dell'archibugio Potrebbe essere Un'idea Anche se Non vedo aumentare Il danno Dell'archibugio Modificando la stat Quindi Boh Puntiamo su resistenza Per adesso Spendiamo almeno Un punticino In resistenza L'energia sale Solo di uno È veramente Poco Però Sale anche la difesa La cosa mi Interessa abbastanza È tornato Il simpatico Cinghialotto Ma noi ti abbiamo Già sconfitto una volta Quindi ci interessi Poco Potrei Provare a Schivarti Oh mio dio Sto già morendo Sei bello tosto Sei decisamente Bello tosto Noi scappiamo Oltre Anzi Cosa c'era Allora Lì c'era La caduta Giusto Magari Buttatici tu Eh No Ovviamente Saliamo quindi La scala Che abbiamo Lasciato Da parte Prima E vediamo Un po' Che cosa si trova Qua sopra Scala lunghissima Tra l'altro Quindi Affrettiamo un po' Il passo Stiamo salendo Stiamo salendo proprio In città Quindi si esce Dalle fogne In questo modo Ah Guardate un po' Si arriva Sul ponte Tra l'altro c'è Oh mio dio Cosa sta succedendo Una palla di fuoco Che ha ucciso Perché Perché ha ucciso Quei cittadini Quegli infetti L'avete Rilasciata Per sbaglio Comunque Si conviene Passare di qui Perché abbiamo Evitato Quell'imboscata A questo punto Molto bene Molto Bene Però questa gente È pericolosa Quindi stiamo attenti Ok Ok Prima tu Bene Perché era così Indebolito Si è indebolito Da solo Con Con La palla infuocata Probabilmente Ho mancato il Perry Attaccami Niente Non sono capace L'abbiamo capito Facciamo così E sbrigiamoci Fiala Di sangue Li hanno droppato qualcosa Quindi voglio assolutamente Recuperare Il loro drop E lui addirittura Non è morto Come cazzo Mi è fatto a sopravvivere Fiala del sangue Fiala di sangue Ok Perfetto Quindi è l'unica strada In cui andare Alla fine adesso È questa qui Parrebbe di sì Abbiamo solamente Diciamo Evitato il trappolozzo Sarebbe stato divertente Vederlo Rotolare Su di noi Però Preferisco Averlo evitato Dunque Se io Vengo Lentamente Posso farvi un agguattone Che dite Quanto pare Sì ma Non vi ho tolto Un piffero Ok Aia Se fate male Mamma mia Proviamoci Oh Bella lì Bella lì Facciamo male anche noi Con questo martellazzo Bene bene Frammento Di pietra Di sangue E tu Due fiale Quindi ho fatto anche bene Ad utilizzare questa fiala Per poi Recuperarne due Marche del cacciatore Ardito Ne abbiamo già Un po' Di questi marchi Non ne abbiamo ancora Utilizzato Neanche uno E qui Sento puzza Di boss fight Ragazzi Sembrerebbe Una sorta di arena Teniamoci Esatto È un'arena Sembrerebbe Un Un essere Non è propriamente Un essere umano Ma sembrerebbe Un cacciatore Ha un pendente Che sembra qualcosa Di prezioso Magari Della chiesa Della cura E parla Attenzione Anche tu diventerai Come loro Ok Sei uno sceriffo Con questo cappello O cosa È bendato Oltretutto È cieco Padre Gascoigne Potrebbe Potrebbe essere Oh mio dio Aggressivo Il ragazzo Ragazzo Insomma Il vecchio Potrebbe essere Una sorta Di Chierico Wow Wow Amico Amico Tranquillo Un attimo Spara Spara pure Sì Ehi Ehi Non gradisco Il fatto Che tu spari Ma non lo gradisco Proprio per niente Ok Proviamo a stannarlo Non è stato possibile Fiala Abbiamo delle molotov No Ne ho più forse Oppure non sono Semplicemente Equipaggiate Ok Sembra Molto pericoloso Perché è decisamente Veloce Come boss E non riusciamo A stannarlo Forse lo devo prendere Con il giusto Tempismo Non così Di sicuro Curati Meno male Che la cura è rapida Perché se no Saremmo già morti Infinite volte Ok Penso non sia Il caso Di utilizzare La forma Martello Perché È un boss Molto più veloce Dobbiamo essere Veloci anche noi Merda 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 Stiamo andando Parecchio male Stiamo andando E non conosco Neanche l'arena Oh Ok L'ho stannato Ragazzi 332 Che odore È quello Cosa Cosa mi stai dicendo Ha mutato l'arma Ragazzi Mi ha ucciso Mi sono un attimo Stupito di vedere Che Ha praticamente L'arma Una delle armi Che viene proposta All'inizio Quello Lascia praticamente Sei Sei molto Pericoloso È così Wow Questo attacco È devastante Sì Non mi fa Non mi fa neanche Alzare Praticamente Oh Buon modo Per cominciare Potremmo farlo Tutto Tentando di Stannarlo Ogni volta Non con questo attacco Probabilmente Ci sono anche Mi e Kill Ok Ancora Vai Wow Se ce la facciamo A continuare così È un'ottima Tattica No Ok Si è incazzato Ha unito le Ha unito l'arma Oh merda No Non ci siamo Eh Padre Si calmi Padre La prego Su via Non sia così Cattivo Con Un suo Discepolo Diciamo così Ancora Ancora Eh si Wow Molto bene Molto bene Aia 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 Via da qui Visuale Stupida Visuale No No Malissimo Oh mio dio Che cosa No No Si è trasformato Ma che figata Ma che Che figata Però siamo spacciati Mi sa Siamo spacciati Oh mio dio Vai colpo caricato Wow Bene 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 Non sto andando malissimo Non sto andando malissimo Nonostante sia la prima volta che lo vedo trasformato Oh Cazzo Mi stavo andando incastrare però Quello è male Sembra aver perso un po' il senno È come se Non Vediamo se possiamo stannarlo Sì Possiamo stannarlo Non ne ho approfittato Ok Ora Vai Sembra più debole addirittura Infatti lo abbiamo sconfitto È come se avendo perso il senno Non sapesse più combattere Padre Gascoid Mamma mia bella Boss fight Ragazzi Si è trasformato in una sorta di Lupo Mannaro Potremmo dire Chiave della tomba di Odeon Ok Quindi questa ci farà raggiungere un nuovo luogo Suppongo Chiave del cancello Che blocca la tomba di Odeon Per l'appunto Oltre alla tomba Al centro di Caterdal Ward Si può trovare la cappella di Odeon Ora la chiesa è abbandonata Alcuni dicono che tutti i residenti Siano impazziti Ok Sarà la prossima zona in cui andremo Probabilmente E vediamo se Si è attivata Anche Una lanterna qui Che noi accendiamo subito Qui si sale E c'è Forse una sorta di cattedrale qua sotto Sotto quel ponte Dovremmo andarci per capirlo bene Avevo visto un oggetto però anche nell'arena Forse sugli alberi da qualche parte No forse erano solamente queste lanterne Quindi Si Abbiamo sconfitto il secondo boss del gioco E direi anche di fermarci qua per questa puntata Ragazzi è stata una boss fight fantastica Molto tattica Molto adrenalinica Mi è piaciuta un sacco Ditemi anche voi cosa ne pensate E noi ci vediamo alla prossima puntata Un saluto da Eren Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.